Proprio perché quello che è successo a Tisa, a Cirento, ma quello che è successo anche in altre città, nei mesi di settimane scorse, ci aveva preoccupato. E per questa ragione abbiamo considerato importante che ci sia stata una risposta immediata e che ci sia stato questo incontro. Abbiamo ribadito come consideriamo negativo quello che è venuto a Tisa, abbiamo detto in modo molto esplicito e pensiamo che non si devono più ripetere episodi di quella natura perché il diritto a manifestare, alla libera espressione va garantito a tutti e che è compito anche delle forze dell'ordine di garantire questo diritto che abbiamo ribadito per quello che ci riguarda anche come sindacato, per la nostra esperienza, che è necessario prevenire i conflitti dando le soluzioni ai problemi e che è necessario allo stesso tempo lavorare per fare in modo che questo diritto sia garantito sempre.